Cari pellegrini, il 31 luglio del 1944 moriva Antoine de Saint-Experie, l'autore del famoso Piccolo Principe. E proprio nel Piccolo Principe ci sono queste parole che adesso andrò a leggervi e su cui voglio formulare una breve riflessione. Le parole dicono così, non si muore per delle pecore, né per delle capre, né per delle case, né per delle montagne, poiché gli oggetti sussistono senza che nulla sia loro sacrificato, ma si muore per salvare il nodo invisibile che li unisce, li trasforma in proprietà, in impero, in volto riconoscibile e familiare. Dunque Saint-Experie dice che fondamentalmente non si muore per delle cose, ma si muore sempre per un ideale. In questo caso può essere appunto la civiltà e voi sapete che la civiltà non è qualcosa che si taglia con il coltello, ma la civiltà di fatto è prima di tutto un ideale che poi si trasforma anche in cose tra virgolette che si tagliano con il coltello, cioè in cose visibili come può essere, non so, l'arte, come possono essere le varie costruzioni, come possono essere alcune manifestazioni dell'umano come la letteratura, la musica, il diritto e via discorrendo. Dunque Saint-Experie dice non si muore per delle pecore, né per delle capre, né per delle case, né per delle montagne, poiché gli oggetti sussistono senza che nulla sia loro sacrificato, ma si muore per salvare il nodo invisibile che li unisce, li trasforma in proprietà, in impero, in volto, riconoscibile e familiare. Dunque si muore per l'ideale, dicevamo. Ora certamente c'è ideale e ideale, ci possono essere dei falsi ideali, così come dei veri ideali, e tra gli ideali veri vi è comunque una gerarchia. L'ideale è per eccellenza, quello con la I maiuscola, è ovviamente Dio, che è il tutto dell'uomo. Ma vedete, non solamente c'è ideale e ideale, ma c'è soprattutto un'altra differenza importante, cioè la differenza tra ideale e ideologia. Quest'ultima, l'ideologia, è un prodotto del pensiero, è qualcosa che l'uomo razionalisticamente costruisce e alla fine passa come passano e muoiono i pensieri di ognuno. L'ideale è invece un valore che l'uomo non costruisce, ma incontra, riconosce. È qualcosa appunto che l'uomo riconosce nelle cose, nella realtà, nell'ordine che gli si staglia dinanzi. L'uomo incontra l'ideale nella storia dei fatti, nell'amore alle generazioni che lo hanno preceduto. Ed ecco perché Sant'Esperi scrive le parole che abbiamo lette prima, cioè si muore sempre per il nodo invisibile che unisce le cose. E qual è questo nodo invisibile che unisce le cose? È l'ordine, è la ragione di tutto, è la verità di tutto che ovviamente si identifica con Dio stesso. L'uomo è fatto per lottare e per vivere per l'ideale, l'ideale con la I maiuscola e questo lo differenzia dalle bestie e questo gli permette di distinguersi, meglio di emanciparsi, di evitare quella profonda degradazione dell'uomo che invece il vivere per le cose piuttosto che per il nodo invisibile che unisce le cose. Bene, cari pellegrini, terminiamo qui, ci diamo appuntamento al prossimo editoriale, vi saluto caramente ricordandovi che Dio è verità, bontà e bellezza.